Ciao e benvenuti in questa nuova puntata. Il mio nome è Massimiano Coniglio e sono un travel photographer italiano. Nella puntata di oggi vi farò vedere come è possibile elaborare una bellissima fotografia scattata in notturna della bellissima città di Dubai, una foto che ho scattato un po' di tempo fa dal Burj Khalifa, mi trovavo al mio fototour con diversi fotografi internazionali, ci siamo anche incontrati con diversi amici e abbiamo aspettato circa 4 ore per avere una bellissima vista dal Burj Khalifa e abbiamo aspettato che le luci della città si accendessero. Abbiamo anche provato a scattare con diverse macchine fotografiche, ognuno di noi ha inserito la propria memory card nelle macchine fotografie degli altri fotografi, così abbiamo potuto testare le caratteristiche anche di altre macchine fotografiche, sia full frame che APS-C e chiaramente anche diversi tipi di lenti. L'immagine che vi propongo oggi è stata scattata con una APS-C e andremo a utilizzare in maniera selettiva i colori, in che modo? Utilizzando il pannello HSL. Se ancora non sapete come utilizzare il pannello HSL vi consiglio di cliccare sul link qui in alto. Con delle fotografie notturne capita spesso di avere a che fare con diversi tipi di luci, luci colorate, luci più intense, e luci meno intense. Quindi è bene cercare di bilanciare le luci per non avere tantissime tonalità colore all'interno della nostra immagine che potrebbero distrarre l'attenzione dell'osservatore. Oggi vi farò vedere come è possibile realizzare quello che io ho chiamato Sin City Look. Se avete visto questo film sicuramente vi ricorderete che è molto utilizzato il bianco e nero, il grigio, i colori sull'arancione, i colori sul rosso. Ecco, l'immagine di oggi sarà sviluppata proprio in questo modo. Vi invito sempre a venirmi a trovare in Germania e unirvi al mio fototour che sto attualmente organizzando. Nella seconda parte del video vi parlerò un pochettino meglio in dettaglio di cosa io insegno al mio fototour. Ragazzi, sicuramente avete già visto delle fotografie che ho pubblicato sul web o sui miei social, su Facebook, su Instagram. Vi porterò in posti bellissimi. Se passate dalle parti di Bonn o di Colonia e volete unirvi a me per un fototour con altre persone dove si parla sia in italiano sia in inglese e potrete imparare tantissime nuove tecniche con le vostre macchine fotografiche, ragazzi contattatemi, prenotate e insieme ci divertiremo tantissimo. Vi ricordo di iscrivermi al mio canale se non l'avete ancora fatto, di cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati sui miei ultimi video. Nelle prossime settimane sarò in giro in Europa, sarò soprattutto in Olanda, quindi vi farò vedere dei posti bellissimi e andremo a lavorare dopo in posto produzione con delle immagini molto ma molto interessanti. Ok, adesso vi farò vedere come è possibile avere un fotoreview all'interno del vostro feed Instagram. Potete sempre taggarmi per avere un consiglio. Contattatemi per qualsiasi informazione, proponetemi argomenti che ritenete interessanti e nella terza parte del video andremo a sviluppare l'immagine della bellissima Dubai di notte. Quindi, se siete pronti a lavorare con me, seguitemi e andremo a scoprire il bellissimo progetto di oggi. Ragazzi, io vi ringrazio ancora una volta per il supporto che state dando al canale. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e cliccate sulla campanella per essere sempre aggiornati. All'interno del canale trovate tutta la mia playlist. Ogni settimana pubblicherò un video, ogni martedì e spero veramente che i miei consigli per quanto riguarda la fase di scatto e la post-produzione vi siano sempre utili. Vi invito sempre a lasciare un commento sotto ogni video che pubblico il martedì. Potete contattarmi anche attraverso il mio profilo Instagram, Massimiliano C. Fotografi. Potete taggarmi se volete un fotoreview. Qui trovate tutta una serie di scatti dei miei ultimi viaggi in Europa e se qualcuno fosse interessato a guardare le mie immagini o all'acquisto di qualche stampa può andare a visitare la mia pagina ufficiale www.massimianoconiglio.com all'interno trovate la sezione del My Travel Photography. All'interno della sezione My Travel Photography trovate le due sezioni relative a Urban Photography and Natural Landscapes e qui potete dare un'occhiata a tutti i miei più recenti scatti. Nella sezione Book Online trovate tutte le informazioni relative al mio phototour che sto attualmente realizzando in Germania. Se qualcuno di voi si trova dalle parti di Colonia, di Bonn e vuole unirsi a me per un phototour della durata circa di due ore e mezzo con tante altre persone, con un gruppo davvero carino, gruppi internazionali, contattatemi quindi e vi darò tutte le informazioni necessarie. Adesso entriamo nel catalogo Lightroom e andiamoci a divertire con il progetto di oggi. Ok ragazzi qui abbiamo la nostra bellissima immagine scattata dal Burj Khalifa a Dubai e ho scattato questa foto come vedete in notturna. Ci sono tantissime luci e tantissimi colori. Com'è possibile andare a lavorare su questo tipo di immagine soprattutto se scattate con una fotocamera a PSC e con una lente che non è il top? Per prima cosa vi consiglio sempre di scattare in RAW e di utilizzare un cavalletto. Questa immagine è stata scattata a ISO 100. Se non avessi utilizzato un cavalletto non avrei mai potuto scattare a ISO 100 quindi vi consiglio sempre di portare con voi un cavalletto anche di quelli piccoli flessibili. Apriamo il pannello base e la prima cosa è andiamo a lavorare sul bilanciamento del bianco. Quando scattate in notturna vi consiglio sempre di lavorare in funzione tungsten o fluorescente. Vediamo su tungsten cosa succede. Ecco lavorando su tungsten l'immagine decisamente acquista un aspetto un po' più freddo dal punto di vista dei colori. Se avessi scelto fluorescent in questo caso l'immagine sarebbe venuta un pochettino più calda. Questi sono diciamo dei dettagli che potete provare sulle vostre immagini. Aumento un pochettino le tonalità del magenta e a me già la colorazione mi piace così per com'è. Andiamo a lavorare sulle ombre. Apriamo le ombre. Come ho detto sempre nei video precedenti se scattate con una psc o con uno smartphone non andate oltre i valori di 70 80 per evitare di introdurre più rumore. Quindi mi mantengo a più 80 per quanto riguarda le ombre e per le alte luci andiamo giù e in questo caso posso mantenermi anche più o meno a meno 100. Andiamo a lavorare sui bianchi tenendo premuto il tasto alto della tastiera come vedete già abbiamo un buon livello di bianchi quindi non vado oltre il valore di più 2 e faccio l'esatto opposto con i neri quindi mi sposto a valori più o meno di meno 28 qualcosina del genere. Aumentiamo la chiarezza mi sposto per queste immagini su valori più o meno di 20 e il contrasto ma non tantissimo perché già abbiamo lavorato comunque sul contrasto utilizzando lo slide dei bianchi e dei neri quindi un valore di più 10 sì più 10 mi sta bene. Lavoriamo sulla vividezza e anche qui rimango su valori più o meno intorno a più 15. Ok chiudiamo il pannello base andiamo sul pannello trasforma clicchiamo su auto vediamo Lightroom se da qualche piccolo no in questo caso sinceramente non mi piace quindi io lascio la fotografia esattamente per come l'ho scattato essendo a cavalletto vado a dare solamente un taglio la parte di sopra a me sinceramente non interessa quindi lasciamo questo così e voi avere questo grattacielo più o meno sui detersi quindi magari la stringiamo un pochettino e abbiamo così un creato un bel panorama dove c'è questa intersezione con le strade e come vedete essendo stato scattato a 4 secondi abbiamo una lunga esposizione quindi abbiamo delle belle scie luminose delle macchine. Chiudiamo il pannello trasforma apriamo il pannello di correzione della lente rimuoviamo le operazioni cromatiche abilitiamo il profilo della lente e andiamo sul pannello dei dettagli per aumentare la nitidezza di questa immagine mi sposto su valori più o meno intorno a 80 e se scattate di notte vi consiglio sempre di aggiungere una luminanza più o meno intorno a 15 20 quindi come vedete la somma della nitidezza e della luminanza è care a 100 questa è una piccola diciamo formula che ho testato sulle mie fotografie non c'è nulla di scientifico quindi vi consiglio di provarlo magari vi piace il livello di nitidezza se utilizzate questa piccola formuletta non dimenticate di utilizzare la funzione masking tenendo premuto il tasso alto della tastiera vi spostate verso destra così andate a definire quali parti delle immagini volete che appunto vengono affette dalla nitidezza e quello che vogliamo è solamente i contorni della nostra architettura ok chiudiamo il pannello dei dettagli e aggiungiamo una piccola vignettatura ai bordi in queste per questa immagine qualcosa così per concentrare l'attenzione più di più sulla parte centrale e adesso comincia la nostra magia il segreto per andare a lavorare in maniera selettiva sui colori di un'immagine scattata in notturna ragazzi è il pannello hsl quindi aprite il pannello hsl e qui è tutta una questione di provare a dei livelli che più vi soddisfano non c'è una formula matematica che vi dice esattamente ok utilizzate questi tipi di settaggi quindi cosa vado a fare per prima cosa vado a lavorare sulla saturazione come vedete qui in basso abbiamo delle colorazioni tendenti al verde e vorrei ridurre questa questa colorazione quindi come è possibile farlo sicuramente è possibile attraverso lo slide della della saturazione quindi vado a lavorare sulla saturazione la prima cosa che vado a fare di solito è portateli tutti a meno 100 il verde l'acqua il blu purple and magenta come vedete rimangono solamente le tonalità tendenti al rosso all'arancione e al giallo quindi per questo tipo di immagini lascio tutte quelle slide del del verde dell'acqua del blu del purple del magenta uguali a 100 e lascio solamente a zero il rosso l'arancione e il giallo mi sposto sulla sezione relativa alla luminanza e andiamo a vedere che cosa succede se faccio la stessa cosa quindi vado giù con tutte le slide relative al magenta purple blu acqua e verde se non siete sicuri quale se la utilizzare avete qui questa piccola funzione che potete cliccare spostate il cursore su una zona della vostra fotografia e lightroom vi dirà vi dirà esattamente quale colore canale andare a utilizzare in questo caso come vedete sulla destra lightroom ha selezionato per noi lo slide acqua quindi vediamo un pochettino se cosa succede ecco come vede non so se riuscito a vedere nello schermo che le luci diventano più intense o meno intense quindi questo slide lo lascio a zero mentre gli altri attualmente li lascio così per com'è vado su a lavorare sullo slide del blu faccio la stessa cosa quindi rimango con lo slide del blu a zero e gli altri due il purple e il magenta li lascio esattamente a meno 100 ok ragazzi abbiamo già raggiunto un buon livello secondo me di contrasto abbiamo creato un'immagine che rispetto a quella di partenza che era piena di colori che potevano distrarre l'attenzione dell'osservatore ad un'immagine che è un po più equilibrata che io definisco sin city style non so se avete visto il film sin city dove appunto ci sono questo tipo di colorazioni chiudiamo il pannello ritorniamo sul pannello base aumentiamo magari un poco 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 l'esposizione quindi un qualcosa così magari adesso riportiamo il valore del magenta più o meno a 40 chiudiamo tutto possiamo dare un taglio ancora un po più panoramico a questa nostra immagine magari la stringiamo così e niente ragazzi magari ancora un po più il contrasto chiudiamo tutto ok ragazzi questa è l'immagine finale se premete il tasto y sulla vostra tastiera avete la possibilità di vedere il prima e il dopo qui a sinistra abbiamo la nostra foto di partenza come vedete una foto che è sicuramente un po sottoesposta con diverse tonalità colori lasciate un commento se vi è piaciuto questo video e continuate a propormi argomenti che ritenete interessanti spero sempre di darvi dei consigli utili per scattare le vostre immagini sia di giorno che di notte scattando del dramatic black and white utilizzando le tecniche del digital blending e dell'hdr naturale vi consiglio di continuare a esercitarvi e se postate le vostre fotografie su instagram non dimenticate di taggarmi per avere un photo review grazie sempre a tutti per la vostra attenzione e ci vediamo la prossima settimana con un nuovo progetto ragazzi ciao a tutti